Il titolo che dice piccoli crimini coniugali ha già una venatura di ironia perché se c'è la parola crimini ci sono due aggettivi che rimpiccioliscono ed è un po' la visione dell'autore su questa coppia una coppia che vive insieme ormai da vent'anni e dove noi li cogliamo praticamente nel giro di poche ore, la commedia ha la durata reale di quello che sta avvenendo in questa stanza quindi avvengono cose che vanno appunto dalla commedia perché le tragedie di coppia viste da fuori sono anche irrisibili per certi aspetti i personaggi hanno anche dell'ironia proprio personale e avvengono delle lacerazioni, delle situazioni molto aggressive per arrivare ad una conclusione che ovviamente non possiamo raccontare ma avvengono delle cose in cui penso che molte persone si possano riconoscere non perché somiglino i personaggi ma perché le dinamiche sono abbastanza diffuse grazie 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 grazie